Parte la sedicesima edizione di Start Cup Calabria, la Business Plan Competition tra studenti, laureati, ricercatori, docenti, imprenditori che hanno l'obiettivo di trasformare in realtà aziendale un'idea di carattere innovativo. La manifestazione è promossa dalle tre università calabresi, dalla Regione Calabria e da Anfin Calabra. Siamo qui perché c'è il lancio della Start Cup Calabria, è giunta la sedicesima edizione. Come ogni anno è promossa organizzata dai tre etenei del territorio regionale, insieme a Fin Calabria e alla Regione Calabria. Quindi è un evento di lancio che inizia oggi la candidatura e ci sarà fino a tutto il mese di settembre. Le tre finaliste potranno accedere direttamente alla finale del PNI a Roma il 5 e il 6 dicembre. La Start Cup è un momento molto importante perché è la sintesi del lavoro che si fa durante l'anno. perché si cerca di portare a frutto quelle che sono le ricerche che facciamo all'interno dei nostri laboratori per provare a far diventare queste ricerche delle opportunità di impresa. La Calabria, insomma non sono a scoprirlo io, quante sono le difficoltà per la Calabria a creare anche delle imprese, in questo caso delle imprese molto innovative. È un'iniziativa che vede il pieno e totale coinvolgimento dei tre etenei calabresi, quindi la Magna Grecia, l'Unical e la Mediterranea. È un'iniziativa gloriosa per la Calabria perché gli anni precedenti hanno portato degli ottimi risultati per alcune idee imprenditoriali che poi hanno vinto anche dei premi a livello nazionale. È un'iniziativa che spinge molto su uno dei bracci della nostra attività, cioè quello della terza missione, cioè la possibilità in questo caso che idee, invenzioni, brevetti possano essere scaricate a terra, cioè che un'idea e un brevetto possa diventare una vera e propria impresa e quindi possa avere una propria vita e un proprio futuro.